Possibilmente dovremmo rientrare a fare corsi di formazione frontali, non solo tramite video terminale, perché non è una perdita di tempo. La formazione davvero diventa un momento essenziale di confronto con i datori di lavoro e con i lavoratori, quindi va ripresa la formazione e ripensata come investimento per ogni singolo datore di lavoro. Dalla prevenzione e formazione, che deve diventare sempre meno generica e sempre più specifica ai controlli. Purtroppo però in questo caso i controlli spesso non sono di quelli casuali dentro i cantieri, vengono programmati e nella programmazione dei controlli si sa che tutta una serie specifica di persone sanno quando arriveranno. Il tema che necessita di un approfondimento più importante, portato all'attenzione delle cronache dalla tragedia sul lavoro di Firenze, è indubbiamente quello degli appalti. Il tema degli appalti è sempre fatto e sempre ritenuto in considerazione purtroppo a una semplificazione, il che non è sicuramente un elemento da sottovalutare, ma semplificazione non vuol dire deregolarizzazione, cioè mancanza di regole che possano in qualche modo verificare la filiera degli appalti. Dopo un primo comunicato congiunto da parte dei sindacati confederali a Retini e due ore di sciopero, è il momento di ripensare al contributo di tutti affinché non si debba ancora morire di lavoro. Non si può pensare che in questo scaricabarire che in questo periodo c'è tra le varie forze politiche, in particolare tra il governo e la nostra regione, che sappiamo solo di differenti posizioni e ideologia, non è possibile fare sempre scaricabarire. In questo caso la regione si deve fare parte attiva perché rispetto al lavoro e ai cantieri e gli appalti che ci sono nel territorio ha delle possibilità di controllo perché per questo c'è anche la regione. Credo che forme di collaborazione con le organizzazioni sindacali, facendo partecipare di più i nostri rappresentanti dei vari settori, e dico di più, anche nel nostro territorio insieme con il Perfetto c'è la possibilità di organizzare anche modalità, di mettere insieme le competenze specifiche e di utilizzare le organizzazioni sindacali che sono un sensore importante per quello che succede nel territorio. Anche nel nostro territorio ci sono delle difficoltà, dei problemi. Abbiamo visto che ci sono sacche di lavoro nero enormi e in queste sacche di lavoro nero si annida purtroppo anche la mancanza di prevenzione e l'occasione perché avvengano infortuni sul lavoro difficili da prevenire in questo caso.